a guanagan amici e amiche benvenuti a quest'altra puntata qui su house of lord io sono l'archico e questo è the sims 4 house of stark saga allora iniziamo a vedere la situazione sono tutti al lavoro tranne john snow e sansa che uno se la dorme e l'altra non so dove sia doppio clic vedi a dove cazzo è nascosto a ok sto facendo colazione allora prima di iniziare darei già visto che le altre volte l'ho sempre dato in mezzo alla alla partita stavolta lo do direttamente all'inizio do il nome del vincitore del contest sul titolo e la descrizione dei libri di sansa in questa oggi vince praticamente non mi avete lasciato moltissimo l'ultima volta vuoi anche che sia agosto e lo capisco benissimo comunque il vincitore anzi in questo caso è la vincitrice è black raven con ma il capo chi è storia di un drago di peluche della sua leadership nell'ombra all'interno di un ospedale grazie mille per aver partecipato e quindi un caro saluto e in questo caso visto che sei anche una ragazza mi permetto anche di darti un abbraccione e un bacione e quindi complimenti a black raven grazie per aver partecipato continuate a farmi sapere i titoli e le descrizioni dei prossimi libri di sansa direi che adesso è pronta per andare a scrivere il libro libro motivante figo storia breve sceneggiatura potrebbe anche essere la sceneggiatura metterei libro motivante fa che le persone diventino versioni migliori di se stesse bellissimo e la leadership del drago conquisterà il mondo e farà diventare migliori le persone grazie anche a sansa quindi togliamo la pausa tra l'altro c'è anche da riparare il gabinetto perché come è ovvio i sim sapete già che se non distruggono qualcosa non sono dei veri sim allora sansa ha finito di scrivere il libro qualità cazzo solo eccellente non è un best seller come le avventure del lord tra l'altro come vedete ho aggiunto i nomi di chi ha scritto quindi tot06 ha scritto quello che poi è diventato il best seller poi c'è quello che ho scritto io e all'inizio per dare l'incipit e poi c'è quello di marco castiglioni infine quello di black raven io vedete che tra parentesi ho messo tutti i vostri i vostri nomi questo 121 solo 121 c'è quello che costa meno quello di sand di black raven ai 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 black raven il tuo libro non è proprio uno dei più belli però vabbè dai renderà la gente sicuramente migliore quindi adesso direi di continuare a riparare il gabinetto no che sostituisci ripara che i soldini non è che ne avete molti se pagate con le bollette assurde bella sono comparsi tutti i picciotti sono tornati a casa allora facciamo così basta ripulisci e riponi ola abbastanza stanchini mi sa e puzzolenti maledetti josh no se n'è andato spero che abbia pulito almeno il non l'ha pulito non guarda ma guardate che uncione ma guardate che uncione aria viso che tu allora asciuga e trova dei componenti ma non ci credo ma non ci credo l'ha appena usato e l'ha già rotto l'ha già rotto ragazzi ma dai ma basta trova e poi butta via butta via e butta via brani inizierà a lavorare tra circa un'ora ma cosmo ma perché non fanno mai quello che gli dico sin di merda non so chi ti ha rotto il gioco ma riparatelo chiedi di riparare a no nessuno bene non ti caga proprio nessuno mi spiace stai lì stai lì ah no arriva brani arriva brani zitti perché va a riparare brani ma e se va a riparare si si va a riparare nel letto si va a riparare io direi che ned che l'ha incazzato nero a disagio madonna ma sono tutti stanchi come delle capre tibetane ma no ma perché si spacca tutto insomma deve esserci non so sono collegati in lan ragazzo i gabinetti di questa casa perché se ne rompe uno si rompe anche l'altro vabbè visto che ho abbassato anche l'audio degli stereo perché te lo lascio acceso ma giusto perché sei sans giusto perché sei una ragazza si però se te ne vai e allora mi prendi per il culo e che cazzo allora mi prendi in giro vediamo dove va a far danno dove va ricco dove va ricco tutto pimpà perché va a rompere i coglioni a ned ecco ma è bravo no perché ned non era stanco di più cioè che pezzo di che merdina ragazzi andato su a romper gli coglioni apposta ricco a parte che sei stanco vuol divertirsi dai vai a letto vai a letto non rompere la 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 minchia cos'è oh madonna c'è un incubo non l'avevo mai visto ragazzi nebulizza il mostro sotto il letto non l'avevo mai visto sto qua del mostro fighissimo questa è fighissima vai è un compito per i guardiani della notte questo nebulizza il mostro sotto il letto vabbè ragazzi non ci sto più a capire un cazzo ecco adesso mamma mia sono praticamente non stanchi cioè morti ma no gente ma no raggiunto il livello dio di malizia va bene però ragazzi io non ne posso più veramente io non 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 ce la faccio più guarda che uno dei tuoi compiti caro mio riparatore guardiano notturno è quello di riparare tutto quello che si rompe durante la notte sia che rompi te sia che lo rompe qualcun altro ma mi spiace sei un guardiano della notte il tuo lavoro è questo difendere il povero lord veramente dalle catastrofi che combinate in in casa a riservare a lavorare tra circa un'ora allora ragazzi facciamo riparare il gioco di ripara come se non ci fosse un domanda ah e sti cazzi sblocca ah ecco ecco perché Giorgio non riusciva a entrare che pirla prima quando dovevano estetizzare il mostro perché non gli ho bloccato tutte le porte ed eccoci qua stavolta a seguire il lavoro di Rob Stark finalmente la stazione di polizia la vedo piena vi ricordate quando giocavamo appunto con quello che adesso è il capo cioè Edoardo Ferrara non c'era nessuno come ha fatto a entrare poi capo in una stazione di polizia dove non c'era nessuno c'era solo lui non c'era neanche i detenuti va ragazzi allora andiamo in pattuglia andiamo in pattuglia vai vai di pattuglia quando un agente è di pattuglia puoi imparare a conoscere la comunità i contribuenti a mettere in righe i piantagrane e contribuire sì contribuenti parla con i residenti per fare un'impressione amichevole o perfida se di qualcuno che sparge rifiuti e colotta e metti un mandato di comparizione per fare in modo che rispetti la legge bello fighissimo mamma mia adesso andiamo a suonare in casa di no non si può non si può suonare bella la casa mi piace bella cioè la nostra è molto più bella ragazzi non ci sono dubbi cioè le case che faccio io ragazzi sono sono tutta un'altra roba un altro stile però anche questo devo dire che non è male cioè ma che cazzo sta facendo perché stai tisando la casa quando dovrei sinceramente dovresti andare lì a presentarti ma giusto così non rispondo molto bene ai comandi sti maledetti sì vai iniziamo a conoscere un po' di gente va così iniziamo a fare comunella cerca di calmare è la madonna ma stiamo fomentando la folla qua presentazione divertente niente è sempre furente questo va via oh cazzo una lite mamma mia e mettiamo un mandato ragazzi fighissimo fermo lì cowboy ha munito mamma mia mamma mia e metti un mandato mamma mia ragazzi ma la gente cosa sta sta pazza ecco muniti a manezza così impari vaffanculo vai muori adesso voglio una pistola così posso sparare come in GTA allora e mettiamo anche un mandato di comparizione gli aristiano ragazzi gli aristiano tutti e robe robe e robe ragazzi e l'ingio al dovere seguiamo sta marcetta quindi dove sono andati vabbè ragazzi niente torniamo alla stazione di polizia allora hai lavorato abbastanza indizi per mettere un avviso a tutte le unità benché la descrizione del sospetto sia approssimativo diventa sempre più specifico trovando e lavorando indizi quando la descrizione del criminale diventa molto dettagliata è meno probabile arrestare un innocente che è presente alcune somiglianze con il colpevole e quindi e metti un avviso a tutte le unità ecco e metti un avviso a tutte le unità ecco vediamo aumenta il rendimento della carriera completando l'incarico del giorno muovi il puntatore sopra la barra del rendimento avviso a tutte le unità in questa zona è stato avvistato un sospetto che corrisponde alla descrizione dell'avviso a tutte le unità chiedi in giro per scoprire se qualcuno sa guidarti verso il sospetto prima di eseguire un arresto usa il taccuino per rileggere la descrizione del sospetto se arresterai la persona sbagliata non sarà un punto a favore del tuo stato di servizio chiediamo del sospetto magari abbiamo già beccato scusi signorina se la disturbo mentre gioca da sola scacchi non vorrei disturbarla ma sa com'è sto prendendo le prenotazioni per la pizza di stasera esti gran cazzi come si suol dire in gergo vediamo quest'altra che gioca chiedi del sospetto se no vi arresto entrambe ah 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 il giardiniere col cappello mi sa che scusate se interrompo la vostra promenade non ho visto alcuna persona simile chiediamo del sospetto dai che tu ma va ciappalva ma dai ma dai nessuno sa qua non proprio non vedo non sento non parlo ma dai cazzoni qualche tempo ho visto laggiù un sim somigliante è la giù sti gran cazzi da giù dove possiamo chiedere a lei che mi sembra anche anche carina molto carina chiediamo soprattutto anche il numero di telefono mi sa che è una studentessa però mi sa che è una studentessa eeeh a lei allegria cioè proprio tranquilli fate come se fosse a casa vostra allora vediamo un attimo questo menage a trois cosa cazzo ha scoperto ma non ha scoperto niente mi sa che non riusciamo a portare a fine a nulla ma ho visto un sim con quell'aspetto credo che sia andato da quella parte infatti ho capito ma che aspetto no ma scusate un attimo sto cazzo di sim che aspetto dovrebbe avere oh rileggiamo il taccuino c'è scritto allora rileggiamo il taccuino cancelliamo tutto si 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 che rileggiamo il taccuino per rileggere il taccuino eh sti gran cazzi per rileggere il taccuino come cazzo si fa come si fa rileggere il taccuino ragazzi non non posso rileggere il taccuino quindi eeeh scusate un attimo no vai alla stazione di polizia un attimo che dobbiamo rileggerci il taccuino perché non ho non ho ben capito la descrizione del tipo che dobbiamo andare ad arrestare allora vediamo un attimo qua archivia vai di pattuglia cosa sta facendo sta la mica giocando naviga su internet che che gra tra l'altro siamo poi messo nelle imboscato nell'ufficetto questo qua proprio eh così non lo vede nessuno così non è controllabile dal capo eh chissà che cazzo starà facendo che cosa sta facendo edo mmm è sui social network anche lui è rimasto un gran cazzone è rimasto un gran cazzone anche edo fine del turno ma come denaro guadagnato 71 oggi roba hanno svolto un lavoro pessimo niente non si è riusciti a prendere il tipo perché poi mi sono non sapevo che cazzo era quel cacchio di di taccuino scommetto che se dovessi rivedere il video poi direi ahhh ma si faceva così allora vabbè ragazzoni datemi informazioni voi che siete più avanti di me fatemi sapere per la prossima volta così riesco a fargli fare una giornata di lavoro eccelsa perché se no cazzo me lo licenziano e sono fregato esposizione del negozio a monatiche pratiche ma che due coglioni dai è sempre la stessa che due palle ragazzi ste robe qua di braccio è finito in un negozio di pannolini John Snow magari se rispondi a Morgan's ristorante Shellama ragazzi che fame ci mangiamo un bocconissimo e la cena di Shellama accetta il senso di sì con cui vuoi viaggiare allora io lo voglio del mio gruppo ecco eccolo qua ma è lui lo voglio lo voglio nel gruppo perché ragazzi è l'uscita dei guardiani della notte siamo in tre e andremo a prendere il quarto ah sì 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 cioè John Snow che è il capo non organizza mai un cazzo la tipa è ispiratissima comunque da quando fa parte dei guardiani della notte cioè organizza solo lei dai dammi il braccio che ti accompagno mia lady dai cappelli di fuoco ce l'abbiamo lasciata qua da sola ah no dobbiamo parlare anche con lui ma perché va sempre dietro il bancone John Snow sempre lui se non va dietro i banconi non è contento ragazzi facciamo entrare qualcuno nel club vediamo un attimo se c'è qualcuno nel club che vuole entrare minchia scusate tiro giù i muri perché rompono un po' la minchiella vediamo un po' lui non lo so questo è quello di oggi adulto adulto Andrea sono quelli di oggi questi sono quelli che roba ha multato Fabio Gentile noi vogliamo giovani adulti è un locale un po' del cazzo ah così cioè no perché di solito sì no ma anch'io di solito vado in un ristorante vado in cucina per lavarmi le mani io non vado al bagno di solito quando entro in un ristorante giustamente io sono il lord vado a lavarmi poi non mi conosce nessuno ma anche se non mi conosce nessuno io proprio sono autorizzato ad andare nella cucina durante il servizio a lavarmi le mani nel lavandino dove di solito lavar le pentole sono sims ragazzi sono sims hanno il cervello di una pietra hanno l'intelligenza veramente di un muschio anzi forse i muschi di Kenya hanno più intelligenza ecco è arrivato lui perché giustamente Jon Snow è lento è molto lento Jon Snow dove cazzo è andato non so a far cosa non si sa a far che ah si conoscono le due rosse sono amiche forse è la mamma scusate un attimo questa come cazzo si chiama Faerys Amorad Faerys ma è sua mamma ma è sua mamma allora signora ma è presentazione allegra direi dai 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 presentiamoci alla mamma della nostra futura consorte eh beh anche la mamma non è male è tale è mamma bella figlia bella giustamente ah ho capito perché è venuta ci ha detto di venire qua perché non paghiamo il conto eh giustamente furba furbetta romantica vabbè ci proviamo con la mamma vabbè a questo punto io direi di sciogliere l'assemblea sempre molto interessante venire fuori con i guardiani della notte facciamo sempre roba interessante la prossima volta veramente la prossima volta faccio io l'uscita organizzo io l'uscita dei guardiani della notte andiamo in campeggio allora qua si griglia di brutto ragazzi qua si sta grigliando di brutto cioè ma Sansa è perennemente in costume da bagno ragazzi Aria sta giocando con Ricom bravissima bravissima e loro sono belli pimpantini vediamo un po' prendi posta per fortuna non c'è posta perché vi vengono sempre dei coccoloni quando vedo le bollette da pagare no ma hanno rotto anche il frigo ma che due coglioni ma che due ripara ripara la giornata non può ancora aggiornare ripara la nostra ragazza tutto fare aggiorna rubinetti robusti assolutamente si cazzo si no così non si spaccano più perché sennò veramente guardate che secondo me lo romperà grandissimo fiducioso vai abbi fiducia in te stesso niente non si può aggiornare cioè ma guardate che due barboni ragazzi due barbonacci vabbè sogni d'oro ma no ma non ci credo ma va dai ma non ci credo vabbè erano stanchi perché sono le 6.55 del mattino e ecco è venuta a sparecchiare lei è pronta per andare al lavoro pimpantissima mi raccomando felice mamma mia questo che si guarda dalla televisione belli cartone bello sembra figo questo cartone animato ah ma vai abbiamo anche il poster tra l'altro di questo cartone animato mi sembra è questo ma è questo ma è lui ma spettacolo questi sono i personaggi del sono i personagietti su questi dettagli devo dire che il The Sims 4 se continua così può solo che migliorare diventare un gran bel gioco devono secondo me mettere a posto un paio di cose ancora nella costruzione però devo dire che se dovessero aggiungere espansioni e mettere più oggetti più robe posso anche disinstallare poi The Sims 3 perché non servirà più a niente anche se tuttora The Sims 3 lo reputo molto meglio nelle costruzioni anche perché c'era più possibilità di personalizzare gli oggetti e insomma c'era un po' più di margine di azione per quanto riguarda la costruzione bene ragazzoni direi che per questa puntata è tutto noi ci rivediamo sempre qui su House of War con una nuova puntata di House of Stark Saga su The Sims 4 restate come sempre sintonizzati e Aua Nagana Grazie a tutti